Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare del mondo PINCO. Nel nostro punto vendita di Cassano Dadda trattiamo la collezione PINCO nel total look, dall'abbigliamento alle scarpe alla love bag che sono le borse. Oggi vi voglio parlare però di un aspetto importante di PINCO, ossia il suo investimento per quanto riguarda il discorso etico ed ecosostenibile. Perché? Perché PINCO è investito tantissimo nella ricerca proprio anche di materiali che possano essere qualitativamente al top ma nello stesso tempo ecosostenibili. Il primo capo che vi voglio mostrare è questo parca che è un parca appunto con un volume largo quindi molto molto giovane, molto giovanile. In che cosa PINCO sostiene veramente l'ambiente? Soprattutto nella ricerca di pellicce ecologiche ma anche veramente di qualità. Ecco questo è un capo tra l'altro anche idrorepellente e con un volume appunto un po' molto importante. Un altro capo veramente carino che è tra l'altro reversibile è questo sempre con la pellicce ecologica e quindi si può portare o nella parte del nero o nella parte del leopardato. Quest'anno PINCO ha voluto concentrarsi molto sul leopardato. Lo troviamo nell'abbigliamento sia nelle gonne che nei pantaloni. Ecco si può portare quindi sia da questa parte che dall'altra. Vi volevo parlare appunto di questo aspetto perché è un aspetto importante su cui PINCO nel tempo concentrerà sempre di più la sua attenzione. Per oggi è tutto e alla prossima. Ciao!